Questo è il cavallo Eijon che fulmineamente coprendo i 5.000 metri del Gran Premio Merano ha fatto vincere al biglietto A26059 i 100 milioni della lotteria abbinata alla classica competizione. 100 milioni, una cifra con la quale si possono realizzare i più meravigliosi progetti. Progetti accarezzati per giorni e giorni con la fantasia da tutti i possessori di biglietti della lotteria e che uno solo potrà tradurre in realtà, il vincitore, un tale di Grosseto che non è stato ancora identificato. Tuttavia, secondo le voci correnti nella città toscana, pare si tratti di un tale dal fisico assolutamente normale. A quanto sembra il fortunatissimo vincitore non ha affatto bisogno di due sedie per sedersi.